Allora, io non ci credevo. Ci credevo, non ci credevo. Adesso ci credo tantissimo. Non avrei mai creduto ad arrivare a questo momento. Un'organizzazione di avvocati di grande efficienza, di perizia, di gentilezza. È importante sentirsi tutelati. La Consulcesi merita assolutamente piena fiducia, insomma, io ne sono la dimostrazione. Sono il miglior esempio di come sia utile, insomma, rivolgersi a persone competenti. Sono stati anni di volontariato senza possibilità di alcuna rinunerazione. Affrontare una rinunerazione senza avere nessuna rinunerazione non è una cosa facile. Io ho fatto ricerca nell'università e abbiamo fatto tutto gratuitamente. È come stato un piccolo salvadanaio che adesso mi ritrovo e magari avrei utilizzato in quegli anni per tutte le esigenze. Stamattina sono passato per l'ufficio postale perché mi è arrivato un mini rimborso, dunque, il PEF del 2004 di 57 euro e ho dovuto portare carte d'identità, test sanitarie e firmare un sacco di moduli. Ricevere questo assegno invece è stata una cosa molto più semplice, anche se enormemente molto più importante. Grazie a tutti.